Anche Salerno ha offerto il suo contributo alla festa della legalità. Alla vigilia della giornata del ricordo delle vittime di mafia e dei martiri della legalità, le porte dell'Istituto Paritario Sacro Cuore si sono aperte alla conferenza sul tema I minori, protetti o abbandonati. L'incontro, moderato dal giornalista Giuseppe Alvigi, ha visto la partecipazione del giudice Ferdinando Imposimato, presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione e tra i maggiori esperti internazionali nell'ambito della tutela dei diritti umani e uno dei promotori dell'incontro, il vice presidente del Consiglio Comunale di Salerno, Alessandro Ferrara. Noi abbiamo bisogno di verità perché senza verità non si rifonda lo Stato e queste strage si rischia ancora di vederle commettere perché purtroppo hanno segnato la storia non negli ultimi anni, dal 1969 dalla strage di Piazza Fontana, quindi stiamo facendo di tutto per far conoscere la verità ai cittadini, agli studenti, ai giovani. In questo ho trovato anche molti amici della provincia di Salerno che ci stanno aiutando a cercare la verità. Mi pregio di salutare la preside Marcella Automei che ci ha dato e ci ha onorato di avere qui il giudice Imposimato. I bambini rappresentano il futuro, sono la linfa di tutti quanti noi, quindi chi più del giudice Imposimato può trasmettere questo momento di gioia ma nello stesso tempo di dare un impulso di educazione legale che è molto importante e soprattutto è da esempio rispetto a tutto quello che oggi si sente.